Musica Ho visto questo in qualche giornale ma quando vedo queste cose sempre dico dobbiamo vedere alla fine il campionato che succede o alla fine del contratto dei giocatori che si hanno comprato noi abbiamo fatto il nostro mercato che è andato bene fino ad oggi e dopo dipende delle partite parlare di un giocatore che ha un livello sicuro, alto, prima di vederlo in campo per 15 partite mi sembra troppo esagerato per me, io preferisco non dire nulla dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista nostro quasi nulla perché noi facciamo, abbiamo un'idea, lavoriamo con questa idea credo che la squadra sa che cosa vogliamo sempre ho detto che lavorano benissimo e per questo alla fine si arriva anche al risultato ma siamo all'inizio, io sono un po' al contrario la gente dice fantastici adesso Napoli io credo che mancano tante partite che dobbiamo concentrarsi e la prossima sarà difficilissima con una squadra fortissima come l'Inter e dopo vedere che succede la prossima e questo per me è il cammino io dell'Inter ricordo due titoli di tanti amici questo è un bel ricordo io so che è una società fortissima, importante a livello internazionale con tifosi che vogliono vincere tutto come tutti i tifosi nel mondo è un attore di livello, di prestigio, credo che nessuno può discutere questo e una squadra che nel campionato non sarà facile per loro arrivare al suo obiettivo questo significa che saranno anche più pericolosi nella Coppa perché un obiettivo per loro è sicuro vincere qualcosa e la Coppa Italia sarà una possibilità sì, lo abbiamo già fatto, abbiamo parlato con la squadra l'importanza della partita l'importanza dell'avversario, della qualità dei giocatori che hanno dell'allenatore con esperienza tutto questo ci abbiamo parlato e sappiamo che non sarà facile positivo credo che, come tu hai detto, cambiare i giocatori fare il tuo blower che si dice così noi possiamo farlo perché tutti i giocatori sanno che cosa devono fare tutti i giocatori hanno fiducia in quello che possono aiutare la squadra e per questo per me non è un problema non serve uno un altro perché tutti sanno l'importanza di questa partita però Grazie a tutti.